Come si può rafforzare la rete delle relazioni, integrazione sociosanitaria, non farle sentire sole? Purtroppo questi anni di Covid sono stati anni difficili soprattutto per coloro che hanno delle disabilità. Noi li abbiamo protetti a partire da una grande campagna di vaccinazione che ha messo in cima i fragili proprio per evitare ulteriori complicazioni. Ci saranno un aumento delle risorse messe a disposizione, si creerà un garante per i diritti delle persone con disabilità perché è importante che le istituzioni sappiano ascoltare e soprattutto sappiano intervenire e risolvere i problemi.